ok ready so today we come to the third foundation of mindfulness we already covered i should say the name it's contemplation of the mind or chitta nupassana allora stasera arriviamo a parlare del terzo fondamento della consapevolezza che viene chiamato chitta nupassana e che riguarda la contemplazione della mente quindi abbiamo visto il primo fondamento che riguarda la contemplazione del corpo il secondo riguarda è vedana nupassana ed è la contemplazione delle sensazioni e credo che a questo punto abbiate avuto una una buona una buona comprensione di quelle che sono le sensazioni e che effetto vi facciano e che effetto possa avere la consapevolezza nella vera che fare con queste e trasformarle e poi il prossimo è la contemplazione della mente e il quarto fondamento è damma nupassana di cui parlerà jan domani quindi il primo fondamento ha a che fare con il corpo gli altri tre invece hanno a che fare con la mente quindi quindi iniziamo andando a costruire a sedimentare quella che è la consapevolezza sul corpo perché è qualcosa di grossolano che possiamo ben percepire ma è inevitabile che nel fare questo nell'osservare il corpo poi sorgano sensazioni emozioni la mente che divaga che pensa e quindi è necessario occuparsi anche di tutto questo e quindi qualsiasi oggetto divenga dominante sarà il nostro oggetto di contemplazione quindi non c'è alcuna differenza non ce n'è uno che sia migliore o peggiore buono cattivo non importa qualsiasi sia l'oggetto più evidente predominante quello diviene l'oggetto della nostra contemplazione su cui dirigere la luce della consapevolezza e quindi ci sono diversi tipi di persone quelle più inclini a osservare il corpo quelli più inclini a osservare le sensazioni e emozioni ad esempio gli italiani hanno molto a che fare con le sensazioni e le emozioni quindi in un qualche modo è necessario arrivare ad osservarle e lo stesso vale per la contemplazione della mente ci sono alcune persone che sono maggiormente inclini ad osservare direttamente quella e magari non hanno una visione chiara e non riescono a percepire più di tanto rispetto al salire e scendere dell'addome e c'è proprio questo esempio di un insegnante nella tradizione vietnamita che ha praticato per lungo tempo secondo il metodo maasi ma non riusciva a progredire più di tanto ma poi è andato in un centro famoso e rinomato per la pratica soprattutto per la pratica di cittano passana e in quel caso ha progredito molto rapidamente e quindi è importante anche comprendere per se stessi qual è il fondamento che ci è più congeniale dipende anche dal metodo che viene utilizzato e che quindi andrà a sottolineare maggiormente un fondamento piuttosto che un altro e ci sono appunto la tradizione propria del metodo maasi oppure goenka o ledisayado ci sono proprio queste tradizioni che prendono come fondamento l'osservazione e la contemplazione del corpo e ci sono però altri metodi ad esempio ce n'è un esempio in birmania in cui si usano maggiormente come fondamenti quello delle sensazioni e quello della coscienza della mente e adesso questo è il metodo più diffuso e più comune in birmania e ci sono veramente un sacco di centri quasi ad ogni angolo e in un qualche modo è congeniale alla tipologia delle persone birmane quindi utilizzano anapanasati per far sorgere la concentrazione e nel momento in cui è presente un buon livello di concentrazione passano all'osservazione con consapevolezza sia delle sensazioni che della coscienza come oggetti ad esempio Mokok utilizza proprio come fondamento e quindi poi come oggetto di osservazione la coscienza e viene insegnato questo e le persone che hanno tanta fede dovrebbero contemplare le sensazioni tanta saggezza dovrebbero contemplare le sensazioni e quindi ognuno di questi fondamenti dovrebbe essere trattato in ugual modo quindi una cosa importante da considerare parlando di coscienza è di liberarsi del concetto dell'idea che la coscienza la mente sia nel cervello quindi Jan già si è approcciato, ha vagamente toccato questo argomento e ha sentito il contraccolpo da parte vostra perché in un qualche modo va contro tutto quello che abbiamo sempre pensato e che ci è stato insegnato ma se si pratica Chittanupassana in maniera molto rapida e veloce è possibile comprendere che in alcun modo proprio la mente non si trova nel cervello ed è veramente semplice perché il cervello è materia, è corpo e siccome lo potete toccare e sentire è proprio lì quindi il cervello è un organo fisico che processa i dati sensoriali e li rielabora e le sensazioni fisiche correlate d'altro lato, d'altro canto la mente con i suoi processi è qualcosa che non ha a che fare con il corpo la mente è più qualcosa che ha a che fare e che rassomiglia all'energia ed è evidente che la mente sia sette volte più veloce della velocità della luce e quindi il cervello non può essere così veloce perché è materialità quindi a livello scientifico c'è proprio un tentativo da parte della scienza moderna di esplorare e comprendere la funzionalità del cervello che però ancora una volta si basa sulla materialità del corpo e quindi proprio in funzione di questo hanno delle grosse difficoltà nel comprendere come funzioni la mente dall'altro lato il buddismo compie indagini e studi e osservazioni sulla mente ormai da 2500 anni comprendendo nel funzionamento senza utilizzare degli strumenti per poterla misurare ma attraverso un'indagine empirica basata sull'osservazione e sull'esperienza diretta e in questo caso dando vita a quello che viene definito l'abidamma appunto in termini buddhisti la scienza della mente e quindi l'abidamma ha a che fare proprio con tutto ciò che riguarda come sentiamo percepiamo e facciamo esperienza della vita è una sorta di mappa della mente quindi è molto importante a questo punto comprendere che è necessario mettere da parte il concetto di mente come come qualcosa che risiede nel cervello per poter utilizzare la mente come oggetto di contemplazione e aprirsi allo sviluppo della pratica il focus dato dal buddha alla mente era in prima istanza pragmatico il mente è la source di felicità e del benessere e della felicità ma anche della sofferenza, del dolore ed è proprio per questo motivo che il buddha ha insegnato che per prima cosa è necessario domare la mente e per poter fare questo è necessario comprendere come la mente lavora e funziona e il buddha ha proprio suggerito di contemplare la mente e i suoi stati mentali in questo modo e questa è proprio una citazione dal Satipatthana Sutta qui in questi insegnamenti o Bikkhu un Bikkhu dimora percependo ancora e ancora la mente solo come mente non mia, non io, non sé, ma solo un fenomeno con diligenza, con chiara comprensione e consapevolezza tenendo così lontano la brama e il dolore mentale nel mondo quindi la coscienza sorge di momento in momento e quindi la coscienza sorge di momento in momento il vedere, l'udire, il gustare, il toccare, tutti i sensi e anche da quelli che sono gli stati mentali interni come possono essere le memorie, i ricordi, l'immaginare oppure il sognare e quindi meditiamo notando a seconda del caso pensare, pianificare, sognare, immaginare eccetera notare tutti questi processi è proprio definito Chittanupassana o contemplazione della mente ci sono tre differenti modi per contemplare la coscienza il primo modo è attraverso il mutamento, il cambiamento dell'oggetto quindi la coscienza sorge in funzione di un oggetto no scusate, sorge in funzione dei sei sensi e del contatto con l'oggetto quindi conosciamo la coscienza in base al contenuto ed è sempre collegata, sta su un oggetto quindi quando l'oggetto cambia, cambia anche la coscienza ogni coscienza è differente in base all'oggetto quindi la coscienza uditiva può prendere in considerazione solo l'oggetto uditivo e nient'altro e la coscienza visiva può prendere come oggetto solo i colori non può udire, non può toccare quindi ogni oggetto ha o produce un differente tipo di coscienza il secondo modo è il cambiamento associato allo stato mentale quindi normalmente riconosciamo la coscienza attraverso lo stato mentale correlato quindi quando cambia lo stato mentale cambia anche la coscienza e se ne possono riconoscere le specifiche caratteristiche quindi ad esempio quando fate l'esperienza di un mutamento dalla rabbia alla gioia potete fare esperienza di un mutamento di stato mentale e della coscienza correlata e quindi poi lo comprendete chiaramente con le sue caratteristiche perché la mente cambia completamente e lo potete proprio vedere e il terzo modo è il riconoscere il condizionamento e quindi quando siete in grado di vedere come funzionano come lavorano i 24 condizionamenti nella coscienza fate esperienza di quelle forze di interdipendenza che generano e tengono assieme il mondo potete vedere come la coscienza sorge in funzione di determinate condizioni e come è condizionata questo terzo modo include i due precedenti per esempio se percepite la coscienza attraverso l'oggetto allora è il condizionamento nella mente è il condizionamento dell'oggetto e poi attraverso lo stato mentale l'altro modo e quindi avviene per associazione perché lo stato mentale viene con la coscienza quindi noi ora prendiamo in considerazione e seguiamo il metodo indicato nel Satipatthana Sutta che è il secondo modo quindi la contemplazione attraverso il mutamento degli stati mentali e quindi ora andiamo alla parte più pratica e quindi iniziando a meditare contemplando la mente la prima cosa che dobbiamo chiederci è che cosa sta facendo la mente e di solito sappiamo che cosa fa la mente semplicemente non la osserviamo quando sappiamo che cosa sta facendo la mente allora possiamo apprendere come osservarla negli insegnamenti del Buddha ci sono due componenti della mente la coscienza e gli stati mentali la coscienza è ciò che è consapevole dell'oggetto e si tratta proprio della pura consapevolezza dell'oggetto gli stati mentali sono quei componenti della mente che sorgono assieme alla coscienza dando colore alla coscienza e possono essere salutari non salutari o neutri e poiché la coscienza è enfatizzata in questo tipo di contemplazione coscienza e stati mentali non possono essere separati normalmente riconosciamo la coscienza attraverso gli stati mentali per spiegare tutto questo viene spesso utilizzata la metafora dell'acqua la natura dell'acqua viene equiparata al conoscere della coscienza e le onde dell'acqua sono gli stati mentali prendiamo per esempio lo stato mentale della rabbia la rabbia è come l'acqua che ribolle l'acqua che bolle è la rabbia e l'acqua di per sé è la coscienza quindi come vedete sono molto vicini l'uno all'altro e sono veramente molto connessi quindi nell'ambito di questa contemplazione il Buddha ha menzionato sedici stati mentali che vengono raggruppati in otto coppie in otto paia ed è proprio questi che dobbiamo riconoscere se sono presenti oppure no nella mente quindi la prima coppia il primo paio è brahma o non brahma quindi la brahma il desiderio la concupiscenza sono chiamati proprio mente affetta da brahma quando questo stato accade nella mente va notato come brahma brahma potrebbe anche scomparire una volta notato una o due volte se questo non accade non datevi per vinti ma continuate a notare ancora e ancora affinché non svanisce quando la mente diviene poi libera da questo volere e questo piacere e questo bramare allora diviene pura e chiara e possiamo notare la mente non affetta dalla brahma e quindi quando la brahma scompare la mente cambia e diventa molto più calma quieta pacifica quindi notate la differenza per poter vedere la differenza nella coscienza quindi è importante comprenderne la causa quindi perché questa brahma ad esempio è sorta cos'è che nutre e che fa sì che ci sia questo sorgere e che cosa ne determina il cessare quindi la seconda coppia il secondo paio è l'odio o non odio quindi la rabbia la frustrazione l'odio l'ostilità sono tutte definite definite come mente è affetta da odio quando uno di questi stati mentali accade allora notateli quanto prima possibile e ancora una volta notandolo uno due o tre volte vedete se scompare oppure no se non accade continuate a notare in maniera attiva ed energetica e a un certo punto svanirà quindi fino ad ora avete fatto l'esperienza che non è permanente e che eventualmente passa e poi ritorna allora in questo caso nuovamente notate e ad un certo punto passerà di nuovo ancora una volta è importante comprendere perché sorge perché perdura e perché passa e eventualmente anche perché ritorna la terza coppia è costrizione o non costrizione questo sta a descrivere l'indolenza e il torpore si tratta proprio di una comprensione che diviene molto più chiara nel momento in cui si osserva la mente una mente che in questo caso è costretta e si viene completamente tirati dentro a questo stato e quindi ancora una volta quando c'è questo stato si osserva si nota si nota si nota fino a che non scompare e poi si nota la differenza tra la mente affetta da questa costrizione e quella che non è affetta da questa costrizione e il quarto paio la quarta coppia è la mente distratta o non distratta che a volte viene tradotto come dispersa e tutto ciò ha a che fare con la mente quando è in uno stato di irrequietezza e quindi ancora una volta lo stesso processo di notare notare vedere quando scompare quali sono le cause che portano al sorgere e allo svanire e la differenza tra la mente distratta e la mente che non è distratta e quindi tutti voi potete averne fatto esperienza quando c'è questa forma di irrequietezza questa mente che saltella di qua e di là e quindi nel momento in cui c'è un senso di stabilità e viene in primo piano la consapevolezza allora poi c'è un calmarsi di tutta questa irrequietezza e tutto quel brusio di sottofondo si acquieta e scompare e allora in quel momento se arriva un suono e magari sorge della rabbia o dell'avversione possiamo notare qual è la differente attitudine della mente e risulta del tutto diversa è come se si fosse una persona completamente diversa quindi ci sono molti altri stati mentali ma non c'è tempo di vederli tutti quindi questi otto sono un buon inizio quindi vediamo ora come pratichiamo tutto questo quindi nel momento in cui si va rafforzando e cresce la concentrazione allora sarete in grado di vedere un gran numero di pensieri in un singolo atto di movimento ad esempio di un arto e arrivano proprio in rapida sequenza e potete vederli quindi dovete notare tutti questi pensieri che sorgono e passano se non potete nominarli in maniera appropriata potete semplicemente notarli con l'etichetta consapevole consapevole e ogni volta che dite nominate la parola consapevole potrete vedere che sorgono tre quattro cinque pensieri ogni volta a questo punto potete lasciare andare la nota mentale perché il notare è talmente tanto veloce che non è più possibile porre l'etichetta allora in quel caso semplicemente seguite il processo e quindi quando riuscite a vedere la coscienza che sorge e passa in questo modo allora realizzate la coscienza non è altro che una successione di eventi che sorgono e passano uno dopo l'altro quindi nel momento in cui uno scompare immediatamente ce n'è un altro che compare e quindi si realizza in questo modo la continuità della manifestazione della coscienza e molti di voi hanno già iniziato a notare la manifestazione della coscienza l'avete descritto come la mente che non si ferma mai questa è una manifestazione della coscienza ma vista in maniera errata siccome non è possibile non si è ancora in grado di vedere quei milioni di coscienze che sorgono e passano allora lì si percepisce come qualcosa di permanente ma se affinerete la consapevolezza allora sarete in grado di vedere questo rapidissimo sorgere e passare quindi la storia di un pensiero è fatta in realtà di tantissime infinite parti in cui una parte finisce e una nuova inizia una persona va e la prossima arriva non è altro che un episodio di una sopopera e quindi si tratta dell'episodio numero 955 si passa a quello successivo se iniziate a vedere proprio questo allora state andando nella giusta direzione quindi a volte è molto semplice notare la persona nei vostri pensieri una viene poi una va un'altra cambia e accade tutto molto semplicemente e quindi nel momento in cui sia la consapevolezza che la concentrazione si rafforzano allora si inizia a comprendere come la mente e il corpo avvengono assieme ad esempio quando la stanchezza sorge si può notare che è sorta e immediatamente passa e poi torna e se ne va immediatamente e quindi c'è proprio questa sequenza stanco notato se ne va quindi che passa uno dopo l'altro e non c'è connessione tra una stanchezza e l'altra ed è facile vederlo nel dolore dolore notato se ne va dolore notato se ne va un dolore è diverso da un altro dolore perché muta continuamente e quindi per le persone ordinarie sembra che che sia la stanchezza che sia il dolore ci sia una continuità e che perduri che non se ne vada mai ma nella realtà non fa altro che sorgere e passare sorgere e passare e quindi l'impermanenza è veramente chiara ma senza una notazione un'etichetta data in maniera continuativa è difficile vedere l'impermanenza perché la mente sembra essere solida e durevole e sembra essere sempre la stessa dal momento in cui siamo nati fino ad ora ma se notate chiaramente potete vedere l'impermanenza e il non-sè e quando vedrete questo chiaramente non vi attaccherete più all'idea di un-sè ma se si fallisce nel notare allora l'attaccamento sorge immediatamente e quindi ci si attaccherà come se fosse l'ego e quindi lo si percepirà come permanente quando invece la consapevolezza si rafforza e siete in grado di stare più a lungo con un oggetto si inizia a notare chiaramente che c'è un oggetto che viene notato e la mente che lo nota quindi c'è un oggetto e c'è la mente che lo nota ed è molto importante vedere queste due cose separatamente e quindi vedete poi chiaramente sempre più chiaramente che c'è un oggetto che viene notato e una mente che lo sta notando il salire e lo scendere dell'addome è costituito da proprietà materiali ciò che nota questa materialità è la mente la coscienza la mente che conosce è ciò che nota l'oggetto notare l'oggetto significa che la mente va all'oggetto è questo è questo il motivo per cui è chiamata mente la sua caratteristica è andare verso l'oggetto la domanda il tipo di tab la stessa cosa accade con la camminata Quando sollevate il piede, quello è l'oggetto della materialità. E una cosa è l'oggetto e poi c'è qualcosa che nota l'oggetto. Quindi si conosce il piede e la mente che lo nota. Ma l'oggetto che notate può anche essere la mente. In questo caso una coscienza nota l'altra coscienza. Ad esempio quando state notando il salire e lo scendere dell'addome, state notando la materia. E poi quando la mente divaga, notate divagare. Ora state notando la mente. Quindi ciò che viene notato può essere sia mente che materia, ma ciò che nota è sempre mente. E tutto ciò che si vede in ogni momento, che si nota in ogni momento, è mente e materia. In altre parole, ciò che viene notato è ciò che nota. Non vedete né una persona né un essere in tutto questo. Quindi siamo talmente tanto abituati all'idea di una persona o di un essere, che è veramente molto difficile liberarsi da questo concetto. Ma quando è possibile vedere chiaramente che c'è solo l'oggetto e la mente che nota l'oggetto, diviene chiaro che non c'è nessuna persona, nessun essere lì. Solo una combinazione di mente e materia, e quindi la mente che nota, la mente che conosce l'oggetto. Quindi per dare un esempio della mente e della materia, si riporta la metafora di due persone, una persona zoppa e una persona cieca. La persona cieca non può andare in alcun luogo. E la persona zoppa altrettanto non può andare da nessuna parte perché non si può muovere bene. Ma se la persona zoppa sale in spalla alla persona cieca, allora insieme possono andare da qualche parte. Perché la persona zoppa può dare le indicazioni all'altra cieca e quindi in quel caso la persona cieca potrà camminare. E' la stessa cosa con la mente e la materia. La mente non può andare da nessuna parte, non può sollevare il piede, non può parlare perché non ha un corpo. E allo stesso tempo il corpo da solo non può fare alcunché perché da solo è come se fosse un tronco. Ma quando la mente e il corpo vengono assieme, vengono chiamati persona e quindi possono funzionare assieme. Ma nella realtà c'è solo mente e materia, non c'è persona. Ed è questo che si intende quando si dice non sé. Quindi facciamo un esempio. Molti di voi hanno riportato di aver visto il pensiero sorgere e passare rapidamente. Quindi un pensiero che viene e va. E poi il successivo pensiero viene e va. Questo è notare la mente al lavoro. Possiamo anche vedere che c'è un osservatore. Spesso riportate a colloquio che è come se ci fosse qualcuno che osserva. Qualcosa che osserva il sorgere e passare dell'oggetto. E' interessante che nessuno di voi abbia usato io oppure me in riferimento a questo. Ma altri termini come osservatore o altri esempi. Quest'osservatore è la mente che conosce. E ciò che va all'oggetto è la mente che nota. E se notate con attenzione, noterete che la mente sorge e passa con l'oggetto. E non è mai la stessa cosa. Accade in differenti posizioni e in continuazione. La stessa cosa accade con l'osservatore. Se osservate con attenzione, sorge e passa insieme all'oggetto. Ma c'è la tendenza a percepire l'osservatore come qualcosa di statico che è fermo e sempre presente lì. Ma se osservate con attenzione, sorge e passa rapidamente tanto quanto la mente che nota. E a questo punto potrete realizzare che la mente non è nel cervello. Non viene da qui, è ovunque. E quindi quando realizzate che comprendete che la mente e la materia non sono altro che qualcosa che continuamente sorge e passa, allora entrate nel territorio della pratica di Vipassana. Iniziate a sviluppare gli insight, le visioni profonde e la vera natura della realtà. E se volete progredire nella pratica di Vipassana, avete necessità di comprendere come la mente funziona. Come lo stesso Buddha ha detto, la mente è proprio ciò che sta alla guida in prima linea. La mente è il centro di tutte le attività mentali e fisiche. E la mente è proprio al centro di tutte le attività mentali. E se comprendiamo la nostra mente, siamo in grado di trasformare la nostra vita. E quindi impariamo ad osservare le nostre sensazioni, emozioni, tutto ciò che accade e a distaccarcene. E quindi non siamo più alla loro mercè, ma possiamo soffrire di meno. Siamo semplici osservatori di processi che sorgono e passano. Potrebbe suonare un po' contraddittorio, ma è proprio attraverso l'osservazione che veniamo a capo, siamo a capo di ciò che sta accadendo. Quindi niente accade senza che ci sia questa consapevolezza e questa chiara comprensione. In questo modo siamo a capo di tutto. È proprio come il timone della nave che controlla la direzione in cui va la nave. E quindi basterà un piccolo movimento del timone per portare nuovamente la nave nella giusta direzione. Non abbiamo bisogno di essere in alcun modo coinvolti nel complesso lavorio che sta avvenendo. E quindi lasciamo che siano gli altri a controllare la barca, a far sì che la nave veleggi e noi controlliamo solo il timone. E quindi lasciamo agli altri di fare il lavoro per noi. Questo porta grande pace. Non c'è bisogno di lavorare, combattere, resistere. E quindi non c'è bisogno di andare in lotta con tutto questo, né resistere. Ma semplicemente essere in pace, in uno stato di pace con ciò che accade. Ok. Ci sono domande?